Visita del presidente della Feder Rugby Sicilia, Orazio Arancio, a Palazzo del Carmine per complimentarsi con la Nissa Rugby per gli ottimi risultati che la squadra sta ottenendo nella stagione agonistica nel campionato di Serie C. Una squadra che sta dando altresì lustro alla città grazie alla convocazione di tre giocatori al derby del Mediterraneo Sicilia-Malta. Ad accogliere il presidente della Feder Rugby e la squadra Nissa Rugby, il sindaco Michele Campisi e l'assessore allo sport Gaetano Angilella. Presente per l'occasione anche il settore giovanile della Nissa Rugby con il responsabile Michele Doro, il direttore sportivo Giacomo Granata e alcuni giocatori. Caltanissetta ha iniziato un percorso che lo sta portando verso un alto livello nel panorama siciliano. Ha iniziato un accordo tra il presidente Lo Celso e il professore Doro per organizzare un'intera filiera che parte dagli under 12 per finire nella prima squadra che rappresenta poi la città di Caltanissetta che già quest'anno si è qualificata per le finali per la promozione in Serie B e ha ancora l'opportunità di salire in Serie B e gli auguriamo di arrivare al più alto livello possibile perché ciò rende gloria anche al rugby siciliano. Un'occasione per discutere con l'amministrazione anche del futuro di questa disciplina in città e la possibile realizzazione di strutture con campo in erba sintetica. La federazione potrebbe anche prevedere un contributo se ovviamente il rugby viene riconosciuto come attività ufficiale nel Tomaselli. Sappiamo bene qual è la condizione degli impianti in Sicilia e da noi purtroppo avere l'erba naturale è impensabile sia per la poca dotazione di impianti che abbiamo e quindi tutti gli impianti hanno un carico di lavoro enorme per permetterci l'erba naturale sia anche per i costi di gestione dell'erba naturale. Oggi è un'occasione particolare perché si è voluto dare proprio al rugby che è un'altra disciplina molto interessante di per sé ma che per Caltanissetta sta riservando delle bellissime soddisfazioni in occasione di questa venuta appunto del presidente della federazione nonché vicepresidente del CONI diciamo regionale e averlo qui abbiamo voluto ospitarlo anche noi per complimentarci per l'attività che stanno svolgendo e in modo particolare permettere in risalto che insomma anche il nostro rugby merita sicuramente un palcoscenico migliore. Abbiamo avuto un anno di pausa all'inizio però ora in cinque anni diciamo che ritornando in questa sala siamo entusiasti del lavoro che abbiamo svolto ma soprattutto non solo perché in cinque anni siamo riusciti ad andare tre volte ai playoff per la promozione in Serie B ma soprattutto perché è una realtà ormai non dico consolidata non voglio essere ma consolidatissima io penso che a Caltanissetta non esista in questo momento un'associazione che abbia più di 150 tesserati.